La seduta del 29 ottobre Approvato anche il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche che stabilisce tra l'altro la creazione del liceo sportivo, nuovo indirizzo dello scientifico da attivare in otto sedi ancora da individuare. La crisi come opportunità Nuovo ciclo di conferenze alla biblioteca della regione dedicato alla crisi economica e al consumo consapevole. Dopo il primo incontro con Maria Cristina Martinengo su consumatori e apprendimento nella crisi, segue il 6 novembre quello con Oreste Cagliano e Federica Bombardi sul rapporto tra giovani e denaro in tempo di crisi. Mercoledì 13 novembre Matteo Vittuari interverrà su L'alimentazione e risparmio di energia, una nuova prospettiva. Per terra e per mare, viaggio tra le terre di frontiera. Presentato a Palazzo Lascaris il libro di Donatella Balani, docente emerita di storia moderna all'Università di Torino, per terra e per mare, viaggio tra le terre di frontiera. Alla presentazione del libro, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la Fondazione Firpo e il Centro Gianni Oberto, sono intervenuti con l'autrice i docenti Dino Carpanetto, Gian Savino Penevidari e Claudio Rosso. Concorsi per studenti La trentesima edizione del concorso scolastico della consulta europea è dedicato all'anniversario della Prima Guerra Mondiale, alle elezioni del Parlamento Europeo del 2014 e all'anno della conciliazione. Il termine per la presentazione dei temi o dei video è il 20 gennaio 2014. Gli studenti possono partecipare anche ai concorsi di studio banditi dal Comitato Resistenza e Costituzione sull'8 settembre 1943, la guerra contro i diritti civili, la Shoah, scadenza 14 febbraio 2014, oppure a quello dell'Osservatorio contro l'usura sull'uso consapevole del denaro, scadenza 18 febbraio 2014. Meridionali e resistenza Presso la Casa della Resistenza di Fondotocio e Verbania è stato presentato il libro Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945. La pubblicazione vuole avviare un percorso di approfondimento sulle vicende individuali e collettive dei tanti italiani che, provenienti dal Sud, parteciparono alla Resistenza in Piemonte dopo l'8 settembre 1943. Grazie a tutti!